Tanti, tanti difficili in questo momento, tanti, troppo difficili, non c'è casa, perché tutti i giorni in sediti, in parco, in strada, in centro, tanti difficili in questo momento, molto difficili, difficili. Sì, qualche volta io vado in Pakistani amico e abita in Gua, io vado a casa di amico, dopo mangiare, qualche volta mangiare, mangiare cibo in Pakistan, mi piace, bariani, pacote, dahimbali, frutti, mi piace tutta roba in Pakistan. Sì, io vado in Borsia, Mosca, a Mosca, far pregare, solo venerdì, con bici, qualche volta, camminare, qualche volta. Piedi 45 minuti, tanti, tanti lunghi. Mio zaino, acqua, cosa di mangiare, altri miei documenti, tutti i miei zaino. Per lavorare al mercato, mi svelio alle tre. Alle tre mesi, prendo la bici e pedalo per 15 km, fino al provincia di Padua. Ho perso 7 kg in un mese. Mangio un cornetto con latte macchiato alle 8, quando arrivo nella città del mercato, dopo un viaggio in fergona di 100 km. Pedalo sotto la pioggia con il freddo, con il foglio, per un'ora. Tre volte la bicicletta si è rotta e ho dovuto ripararla per strada. Pranzo con una banana o una mela, qualche volta con un panino. Alle due pomeriggio, finisco e torno con il fergona. Poi prendo la bici e dopo 15 km arrivo e ravvigo. Alle 17 il centro di orno è chiuso. Allora sto quattro ore in centro o in un parco ad aspettare. Vecino alle 6 e mezza. Alle 9 posso finalmente fare una doccia. quando aprì l'asilo naturno. Alle 13 e mezza vado a dormire perché alle 3 del mattina la mia giornata ricomincia.